Musica Ecco vediamo la seconda finale della MS2 della prima prova del trofeo dei prosciutti a Campo Galiano partenza della MS2, seconda finale caduta, caduta, ma come quasi sempre speriamo senza conseguenze infatti queste cadute sono in partenza abbastanza frequenti anche se per fortuna pochissime volte portano dei problemi fisici di una certa nota qualche sbucciatura, qualche ammaccatura, ma niente di più questo dimostra che anche nel motocross la sicurezza è migliorata parecchio vediamo nelle prime posizioni, vediamo Svan Maurizzi nella prima posizione al secondo posto, vediamo Imolesi e Andrea tutti e due piloti della Romagna, due piloti romagnoli su Honda Svan Maurizzi in testa, Imolesi al secondo posto tutti e due su Honda Imolesi del motoclub Monte Corali, famosissimo Monte Corali di Faenza pista che ha ospitato il campionato del mondo addirittura di motocross dove ha visto un italiano ancora una volta laurearsi campione del mondo italiano nel cuore del nostro operatore Fiaccadori, il mitico Toni Cairoli tra una settimana con una bella donna e Toni Cairoli lui sceglie Toni Cairoli ecco vediamo in testa sempre Imolesi secondo Svan Maurizzi al terzo posto oh bellissimo Bersanelli, giovanissimo pilota del Big Jam di Parma con la Yamaha la Yamaha a due tempi in questa cilindrata vediamo che su questa pista questi ragazzini terribili con la due tempi stanno castigando un po' i piloti della quattro infatti vediamo che ha superato con una manovra bellissima ha superato Svan Maurizzi, intanto al primo posto sempre Imolesi sempre Imolesi del Monte Corali con la Honda in prima posizione vediamo ora, vediamo adesso nel tratto di Wosp vediamo se Bersanelli riuscirà ad avvicinarsi sì, Bersanelli si avvicina Bersanelli con la Yamaha 125, pilota del Big Jam, giovanissimo pilota veramente molto bravo ecco Bersanelli che con una grinta eccezionale sta cercando di attaccare vediamo anche al quarto posto, al quarto o quinto posto mi pare ci sia Furlotti Furlotti con la TM Michael Parini, pilota di Reggio Emilia che ha nelle partenze il suo tallone d'Achille Michael Parini del Motor Mix, pilota molto bravo ma diciamo un pochino troppo sensibile nelle fasi di partenza Bersanelli intanto sta cercando di andare a prendere i Molesi bellissima questa manche vediamo anche Furlotti, Furlotti che in questo momento mi pare sia passato in quarta posizione non riesco a vedere bene il quinto ma mi pare che addirittura sia Munari Mirko figlio d'arte, giovanissimo Munari con KTM 125 il papà è stato uno dei protagonisti degli anni 80 della Lega Wisp e non solo mi pare sia classificato anche al secondo posto in un campionato italiano junior vediamo adesso Bersanelli che sta tallonando i Molesi sempre Michael Parini che cerca di rimontare da una partenza delle migliori credo che tra qualche attimo Bersanelli cercherà ecco l'attacco di Bersanelli non riuscito, bravissimo Bersanelli è molto difficile vedere una manche di questo genere cioè una due tempi che sembra addirittura avere una certa superiorità su una quattro Bersanelli passa, bravissimo, bellissimo sul basso, pulito in una pista indoor, una pista come Campogliano non è sempre facile quando ti trovi davanti un pilota che ti chiude la traiettoria migliore diventa difficile Bersanelli al primo posto, i Molesi al secondo sempre Bersanelli in testa non credo che abbia 16-17 anni questo ragazzo, veramente bravo ha forse ancora la possibilità di arrivare a dei livelli ben più alti uno dei pochi emigliani che vedo con questa convinzione ecco Furlotti, bravissimo, Furlotti al secondo posto Furlotti con l'ATM, mi pare sia del team FM FM Racing, anche questo è un figlio d'arte il padre correva negli anni 80, forse non con i risultati di Munari ma comunque era sempre un pilota a livello nazionale Sozzi, altro pilota di Salsomaggiore penso della zona di Parma comunque Sozzi con la Suduki quattro tempi sempre tra i protagonisti questi ragazzi tutti giovanissimi in età media credo che non arrivi ai 18 anni ecco intanto Bersanelli che ha preso un bel vantaggio e al secondo posto, bravissimo, Furlotti guida molto bene con l'italiana TM foto secondo me bellissima ecco sempre in testa Bersanelli con una Yamaha tra l'altro la TM continua a sviluppare questi due tempi che adesso ha una valvola elettronica mentre la Yamaha ha fermato il suo sviluppo al 2005 in testa Bersanelli che taglia il traguardo in prima posizione secondo Furlotti Furlotti Cristian con la TM terzo Imolesi Imolesi del Motoclef Faenza è arrivato in terza posizione al quarto Michael Parini Parini corona una bella rimonta probabilmente se fosse partito davanti avrebbe potuto fare di più eccolo qua Michael Parini al quinto Munari Mirko, bravissimo Munari e via via tutti gli altri